E addirittura ho incontrato in Transatlantico il presidente Brunetta, che di certo non è uno che ama Renzi. Ho chiesto notizie e, devo dire, ha avuto l'eleganza di dire di queste riunioni non si parla all'esterno. Dopodiché qualcosa è trapelata, ma trovo che sia quando si vuole fare politica un senso, sia la responsabilità ed è un peccato per i loro elettori alla fine che la Lega non sia stata presa. No, mi scusi, ma io c'ero a tutte le riunioni. No, adesso non si parla all'esterno. Io, mentre ero alle scorse riunioni, leggevo le agenzie di quello che si stava dicendo dentro. Ma non prendiamoci in giro, è semplicemente un palcoscenico di Renzi che utilizza dei morti e dei drammi per far vedere che è l'eroe nazionale. E io non ci sto a questo gioco. E io non sto a questo gioco.